Buongiorno a tutti, io sono Marco Lecortes, trenatore del Juventus, stiamo qui facendo durante la sesta e sabato un campionato dove tutti i bambini si fanno misturare per fare un campionato molto grande dove tutto l'equipo va a giocare e divertire tutto giunto. Oggi faremo il campionato e oggi faremo la semifinale e la finale dove un gruppo e ogni gruppo può ottenere il torneo. Grazie e forza, Juventus! Grazie a tutti! Juventus camp è il migliore, io gioco il Vileci e io gioco molto soccolo. Grazie a tutti! Un, due, tre, Juventus! Ciao, io sono Filippo, qui nel campamento è molto bello, oggi abbiamo giocato con il Beletti, è molto bello e oggi stiamo facendo il campionato, tutti giocando con molta garra, con molta forza, è molto bello! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!